Una nuova occasione di visibilità per il castello ottagonale di Andria. Dopo Tales of Tales, il racconto dei racconti, film del 2015 del regista Matteo Garrone, Castel del Monte sarà lo scenario ideale per un'altra produzione cinematografica. Ad annunciarlo è il Polo Museale di Puglia in una nota in cui comunica che il maniero resterà chiuso dal 18 al 22 aprile, mentre nei giorni 13, 14, 15 e 26 aprile sarà visitabile solo parzialmente. Il Polo Museale di Puglia non offre molti indizi sul film che sarà realizzato, ma comunica che si tratta di una produzione Warner Bros. Entertainment Italia. Secondo i ben informati, con tutta probabilità, si tratterà del nuovo film di Guy Ritchie, I cavalieri della tavola rotonda Re Artù. Il film, che dovrebbe essere presentato per marzo 2017, avrebbe nel cast attori del calibro di Jude Law. La produzione pagherà per l'utilizzo del castello, risarcendo di fatto anche i mancati incassi delle visite che, lo ricordiamo, sono sempre più numerose a Castel del Monte, anche grazie alla ribalta mediatica di cui gode il castello ottagonale in queste occasioni. Nel 2015, quasi 250.000 visite, il 23% in più rispetto al 2014, hanno fatto sì che il castello di Andrea si piazzasse al ventottesimo posto tra i monumenti più visitati d'Italia, il primo monumento di Puglia.